buon pomeriggio a tutti ore 13 e 36 pausa pranzo chi ha già mangiato e di questo martedì 10 ottobre mentre il mondo pensa quello che sta succedendo guerre varie intanto in italia continuano ad arrivare le stangate quelle stangate che che alla fine arrivano su benzina che riaumenterà sul cibo su tutto quello che è la vita quotidiana gli affitti adesso anche le rc auto ultima notizia che purtroppo fa capire che mentre ci sono i casini a livello globale c'è chi fa i soldi chi fa i soldi siete collegati ciao allegra speriamo che arrivi la notifica di questo algoritmo che in questi giorni qua è più antipatico che mai che devo darvi questa notiziuola che tanto per uscire anche dall'argomento guerra che sinceramente non ho voglia cosa vuole in pentola carlo clemente che ci faranno un mazzo così con gli aumenti tra i quali pensate un 27,9 per cento di aumento delle polizze assicurative le assicurazioni dell'auto farà più 27,9 per cento una maxi stangata ma si può dice cornellio cornellio non si non si potrebbe però lo fanno questi lo fanno ed è tutto vero non è purtroppo una fake news e vi dico da dove arriva la fonte intanto l'abbiamo pubblicato sul nostro paragone punto it il nostro amico tommaso crocco ha pubblicato questa notizia rc auto arriva la stangata più 27,9 per cento l'anno la mappa delle regioni e quanto e quanto e soprattutto come risparmiare non arrivano belle notizie amici per gli automobilisti italiani già le prese con rincari che hanno colpito le famiglie nel corso degli ultimi mesi come riportato dall'osservatorio di facile punto it quindi parliamo di un sito conosciuto e autorevole infatti nel giro di soli 12 mesi la corsa dell'rc auto si è fatta ancora più veloce con il premio medio pagato dagli automobilisti italiani per assicurare un veicolo a quattro ruote che ha fatto registrare impennate del 27,9 per cento arrivando a settembre 2023 quindi adesso addirittura 614,39 euro calcolatrice la mano prendendo da calcolatrice non vi consiglio di farlo però purtroppo questo vuol dire che oltre 130 euro in più rispetto a settembre del 2022 130 euro in più questa è solo una piccola cosa no purtroppo il dato è emerso dall'analisi di un campione di oltre 11 milioni di preventivi rilevati proprio dalle portale facile punto it trasmessi tra settembre del 2022 e settembre 2023 quindi amici 11 milioni di preventivi che testimoniano questa notiziaccia da più di un anno che stiamo da più di un anno che stiamo affrontando questo rialzo costante delle tariffe delle assicurazioni auto un trend che non sembra rallentare chi l'ha detto questo andrea ghizzoni il managing director di insurans di facile punto it nel contesto attuale caratterizzato da continui incrementi confrontare le offerte disponibili sul mercato può rilevarsi fondamentale per trovare il modo più adatto alle proprie esigenze di risparmiare ecco la mappa delle regioni italiane sulla base del costo delle rc auto le più care e quelle dove costa meno andiamo a capire se si confrontano i premi delle rc auto rilevati nel settembre 2023 con quelli dei 12 mesi prima emerge come gli aumenti a doppia cifra abbiano finito per interessare tutta la penisola quindi non nessuno è scampato da questo aumento però la classifica delle regioni che hanno fatto segnalare gli incrementi maggiori guidata dall'umbria dove addirittura lo scorso mese le tariffe sono salite mediamente del 37,9 per cento quasi un 40 per cento in umbria cosa vergognosa a seguire c'è lazio che ha registrato un aumento dei premi pari al 36 per cento la sardegna 34,4 per cento la campagna e resta la campagna però la più cara in assoluta perché a settembre 2023 per assicurare un auto nella regione occorrevano in media 1.062 euro quindi il 73 per cento in più rispetto alla media nazionale sul podio delle maglie nere seguono la calabria con un premio di 673 euro e la puglia 665 dove costa meno dove costa meno l'assicurazione in friuli venezia giuglia in trentino alto adige e lombardia amici questo è solo un piccolo è un piccolo dato no questo delle assicurazioni dell'rc auto però colpa di questa guerra che è arrivata adesso sappiatelo aumenterà tutto nuovamente aumenteranno le bollette della luce del gas dell'acqua le assicurazioni il cibo i prodotti primari aumenterà tutto tutto tranne che una cosa ditelo voi quale aumenterà tutto tranne che una cosa o due cose gli stipendi e le pensioni degli italiani dei privati italiani dei cittadini perché quelle dei politici aumenteranno sempre detto questo vorrei un vostro parere condividete commentate come disse zeus dice alberto pieri è come disse zeus è il momento di manifestare tutti dicono i giorni perché ci sono troppi aumenti le paghe le pensioni invece manuel giustamente come dice manuel lucchetti non aumentano mai purtroppo vedo questo vi saluto purtroppo è una brutta notizia non è una notizia reale non è una brutta una bella notizia pessima ovviamente ma purtroppo è la realtà dei fatti qua con le guerre fanno una speculazione vergognosa continuano a fare una speculazione vergognosa e noi siamo le vittime di questo sistema corrotto ciao a tutti buona giornata